Lutto nel Milan come informa la stessa società rosso nera in una nota ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Biglio cresciuto nel nostro settore giovanile dal 2011 allenatore della nostra scuola calcio in Kuwait tutta la famiglia rosso nera si stringe al dolore dei suoi cari riposa in pace Patrizio questa è la nota della società calcistica Biglio sarebbe morto per un malore durante una partita di padel